Ma ne mette c'è l'ombre e servizio a me, ognuno di me e servizio a me, vorremmo, e oltre di un appus di sacravento di lapiri, passione insomma amatum e deliquistri pegueturus, chi del nostro corpo vissi e del sangue di tui sacri, il cielo ne dare, oltre di miscani spruzzi in novit, di un genero sentiamo, che vive soperegnas di secolari secolari. Amén. 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 bella espressione che il predicatore questa sera ha illustrato nella nostra mente. Qual eravamo e quale siamo? Eravamo figli dell'ira, oggi figli della grazia. E tutto questo per opera di Gesù e di Gesù Crucifisso. Quindi stendiamoci strettamente a Gesù, cerchiamo di fuggire sempre alla colpa che è quella che ci rende tizioni d'inverno. Invece ci siamo rivestiti della grazia di Gesù con la sua passione morta. E allora non deponiamo mai queste vesti che saranno quelle che ci presenteranno al tribunale di Dio per sentire l'invito del Celeste Padre venite benedetti a possedere il regno mio. E adesso vi do la santa benedizione a voi e a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, alle persone voi cari e anche alle persone a noi avversi. E questa benedizione scende curiosa. Il nome del prato, il Signore del Spirito del Santo è questo. Se lo dà Gesù e Maria. E buona notte. Buona notte. Buona notte.